5.54 bellissima giornata e stiamo per andare a fare una figata ciao ragazzi ciao ragazzi bentornati in un nuovo video sto per morire di sonno ma vi raccomando iscrivetevi a questo canale perché oggi sarà una super giornata vi faccio vedere poi durante non vi spoiler o niente come dicono quelli gravi siamo alla gran fondo lombardia e oggi gireremo su quelle ammiraglio lì cimano ammiraglio moto stoffette moto la direzione corsa speriamo a partire il gran fondo puoi stare tu davanti più dietro è uguale tu come sei più comodo tanto se ci fermiamo ci scavano ruote e rima ma te non le hai? no ma siete dritto col disco? no perché ma se detto prendiamo shimano col disco avranno il disco invece non hanno nulla si qui in brianza è tutto un dorso praticamente ma questi sono ancora belli anche sul ganda così dappertutto una gara così di pro con le ammiraglie loro non hai fatto tanti cambi ruota o c'è una gara così di pro con le ammiraglie loro non hai fatto tanti cambi ruota o c'è magari più sfidati quelli più dietro che non hanno assistenza no quando non è l'ammiraglia quando non hanno ammiraglia c'è sempre la shimano fisso si dobbiamo essere l'assicurazione è sempre avanti all'angolo carnita va anche per e questo è l'ordine di mond ring su orario monte carlo prima devo dire l'avete molto riconosciuto lucio battisti di si viaggiare per cui sarete su orario no vabbè quelle robe lì le sire ne abbiamo fanno no dobbiamo fare rimini e' questa è Nicola? si non è non è un'altra cosa eccoci sul muro di sormano salita durissima fanno tutti strafatica dai bus che è lì dai bus che è fatta lì vai bus vai che è fatta bus qui se li prende il pieno non lo sono in corso ci sono un po' di corso adesso spero se vengono sulle macchie quanti gravi sono sers? 11 ehi mi so che fai schia No, 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 no.